Che streamer preferisci? Favigi TV con 6 milioni di iscritti o Me Contro te con 5 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? I Pantellas con 5 milioni di iscritti o Stepni con 4 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? 5 minuti creativi con 4 milioni di iscritti o When Gamers Fail, Lion con 4 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? Amelie Tweet con 3 milioni di iscritti o Heart The Show con 3 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? Anima con 3 milioni di iscritti o Ciccio Gamer 89 con 3 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? Il vostro caro Dexter con 3 milioni di iscritti o Mike Shosha con 3 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? Sari con 2 milioni di iscritti o Fatto in casa da Benedetta con 2 milioni di iscritti o Fatto in casa da Benedetta con 2 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? Il lato positivo con 2 milioni di iscritti o Oss Marcello Barenghi con 2 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? Che streamer preferisci? 2 players o 1 console con 2 milioni di iscritti o Matt & Buys con 2 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? Amedeo Preziosi con 2 milioni di iscritti o XMORRI con 2 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? Gabby Sixteen Bit con 2 milioni di iscritti o Scottex con 2 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? La Sabri con 2 milioni di iscritti o Gigli Autogol con 2 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? Amedeo con 2 milioni di iscritti o Jumpy Tech con 2 milioni di iscritti? Che streamer preferisci? Luca Lattanzio con 1 milione di iscritti o Sespo con 1 milione di iscritti? Che streamer preferisci? Joker con 2 milioni di iscritti o Gaboscu con 1 milione di iscritti? Che streamer preferisci? Spioche con 1 milione di iscritti o Giacchidale con 1 milione di iscritti? Che streamer preferisci? Me, Controte Music con 1 milione di iscritti o Luis con 1 milione di iscritti? Che streamer preferisci? Riccardo Dose con un milione di iscritti o? Giustremo con un milione di iscritti Che streamer preferisci? Porkmoz con un milione di iscritti? Amundoz? Fancy con un milione di iscritti Che streamer preferisci? Gianmarco Zagato con un milione di iscritti o? GBR con un milione di iscritti Che streamer preferisci? Klaus con un milione di iscritti o? Yotobi con un milione di iscritti? Che streamer preferisci? Famiglia Sudicata con un milione di iscritti o? Frenchmole con un milione di iscritti Che streamer preferisci? Captain Blazer con un milione di iscritti o? Mattiz con un milione di iscritti Che streamer preferisci? Sodin con un milione di iscritti o? Stormi con un milione di iscritti